Buonasera mister, Gianmarco Pone, agenzia Megapress. Innanzitutto complimenti per la partita, le chiedo qualcosa di tattico, ho apprezzato molto i compiti che ha chiesto a Giasi, soprattutto anche in fase di copertura, ho visto una corsa al settantesimo, è stato anche molto bravo a rincorrere di Marco, le chiedo un'analisi sul primo gol che nasce da una rotazione poi centrale di Di Marco, come si poteva ovviare a quel gol se lavorando di reparto, se c'è un errore individuale? La prima considerazione è che si poteva ovviare fischiando il fuorigioco iniziale, perché io non sono d'accordo con la scelta, l'accetto tranquillamente, serenamente, ci mancherebbe altro, però secondo me era da fermare perché la posizione iniziale della conquista di spazio dalla parte di Turam era in posizione di fuorigioco. Ora, se un mio giocatore avesse cercato di intervenire su quel primo lancio rimettendo di fatto in gioco Turam allora aveva un senso, ma la posizione iniziale è stata secondo me non corretta. Detto questo si poteva ovviamente rimediare attraverso una lettura anticipata, però secondo me è anche giusto dare merito all'avversario, quindi al singolo giocatore in questo caso Di Marco che ha fatto un gran bel tiro. Da questo punto di vista, secondo me quando veniamo in certi campi dove la qualità è così elevata, bisogna anche accettare che gli avversari ti possano mettere in difficoltà, cosa che peraltro secondo me abbiamo cercato di fare anche noi contro di loro. Infatti a me la prestazione è piaciuta, mi è piaciuta come hanno interpretato il volume di gioco i ragazzi, come hanno cercato di pressare alto quando si poteva ovviamente, però sostanzialmente tra supremazia territoriale e possesso del gioco devo dire che l'Empoli ha fatto la sua partita come noi ci aspettavamo di poter fare e però riconosciamo anche che l'Inter ovviamente per numeri e per qualità è la prima del campionato, quindi questo lo accettiamo. Buonasera mister Luca Savarese Radio Cross, rispetto alla partita contro il Milan qui di qualche settimana fa, cos'è che stasera ha apprezzato di più magari dei suoi ragazzi e cosa magari non li hanno apprezzato? Grazie. Un maggior gioco posizionale, una gestione della palla più ragionata, più veloce in alcuni tratti, la capacità di portare più uomini a partecipare all'azione offensiva, in maniera più coordinata e non troppo frenetica. Con il Milan avevamo fatto un primo tempo dove il Bari Centro anche per merito del Milan, ma probabilmente anche per non ancora il necessario coraggio da parte nostra era stato un po' basso. Stasera invece devo dire che tutto sommato la squadra ha dimostrato in entrambi i tempi di volersela giocare senza perdere mai l'equilibrio, ma da parte nostra forse dobbiamo ancora migliorare, senza forse dobbiamo ancora migliorare la scelta magari dell'ultimo passaggio, la capacità di prendere la porta quando tiriamo, perché poi questo ovviamente fa la differenza. Noi siamo convinti di potercela fare, è chiaro che abbiamo incontrato nelle ultime tre partite Milan, Bologna e Inter, devo dire che abbiamo fatto in tutte e tre le partite una buona figura, ma noi vogliamo sempre credere che possiamo portare via qualcosa, poi se non ce la facciamo siamo anche razionali, ma non dobbiamo mai perdere l'entusiasmo e la consapevolezza che si possa prendere punti dovunque, ovviamente a fine partita di fatto si riconosce anche l'avversario, perché così deve essere. Buonasera mister, Stefano Scacchi la stampa, da allenatore quanto è difficile fermare queste combinazioni dell'Inter tra centrale e terzino, perché nell'ultima partita stanno segnando quasi più così che con gli attaccanti e centrocampisti, la sensazione è che venendo su in questa maniera sia quasi più difficile fermare che con attacchi tradizionali? È possibile intanto fermare ovviamente avendo una buona lettura della tattica di uno contro uno, ma ormai nell'uno contro uno nel calcio di adesso è un uno contro uno che varia spesso, perché a livello posizionale c'è grande interscambio di ruoli, quindi il ruolo diventa solo più un compito, una posizione da occupare, non necessariamente la occupa sempre lo stesso giocatore, quindi ovviamente da questo punto di vista bisogna ragionare sugli spazi, capire di mantenere le stesse distanze tra i vari reparti e tra i giocatori dello stesso reparto. È anche vero che secondo me alcune squadre si possono permettere certamente molto di più rispetto ad altre la capacità di accettare non solo l'uno contro uno, ma spesso anche l'inferiorità numerica, perché ovviamente hanno una consapevolezza, hanno delle qualità per cui giustificano appunto la classifica che hanno. Chi come noi deve fare un certo tipo di percorso per arrivare a mantenere la categoria, si deve costruire questa consapevolezza nel tempo, ecco perché è importante molto, non solo soddisfacente fare partite contro avversari del genere, perché ti rendi anche conto del perché certi giocatori stanno a certi livelli. Detto questo si poteva venire qua a fare una partita, secondo me, non con la convinzione di costruire comunque la nostra identità o continuare a costruire la nostra identità, si poteva sperare di prendere meno gol possibili, invece a un certo punto noi abbiamo proprio anche creduto di potercela convintamente, di poter trovare magari il gol del pareggio, così non è stato, va bene così.